e generalmente il basso rilievo emerge rispetto alla lastra del 50% della sua altezza in questo caso ho realizzato una coppia di un particolare di San Giorgio il Drago di Donatello perché la particolarità di questo lavoro è che per la prima volta Donatello all'incirca nel 1400-1417 inventa per così dire la tecnica dello schiacciato dove il rilievo è ridotto ai minimi termini e quindi si parla quasi di un disegno sull'argilla di un'opera pittorica ma realizzata con l'argilla perché dopo aver fatto uno studio preparatorio della prospettiva piuttosto che dei chiari e degli scuri non si emerge più con l'argilla ma si va anche a scavare e quindi creando dei sottosquadri all'interno della lastra si creano delle ombre sul lavoro stesso e di conseguenza si hanno effetto pittorico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti